Brutta sconfitta in trasferta per il Lavello, battuto con un secco 3-0 da un'ottima mariglianese giunta alla terza vittoria di fila. Il primo tentativo è però di marca ospite con Logolusa al quarto d'ora che finisce fuori. La replica dei campani arriva a dieci minuti più tardi con una bordata che si schianta contro il pallo ma era tutto fermo per fuorigioco. Al venticinquesimo si rivedono i Lucani con un destro di Statella che si bella di poco a lato ma al trentottesimo arriva il tapin di Aracri che sblocca il risultato e sul quale si chiude al primo tempo. In avvio di ripresa sotto una pioggia sempre più incessante i gialloverdi provano la conclusione prima con una punizione di Logoluso che esce di un niente e poi con Caruso ma nemmeno lui inquadra lo specchio della porta. Ma nel giro di tre minuti tra il venticinquesimo e il ventottesimo Esposito mette il punto esclamativo sul match con un sinistro da distanza ravvicinata e un destro dal limite all'angolino. Gli uomini di Zeeman si innervosiscono e Bright si fa munire ingenuamente la seconda volta e viene espulso. Dopo questo KO il Lavello resta fermo a quota 24 ed esce dalla zona playoff. Poco fa la società ha messo fine alle voci di mercato che riguardano il bomber Bursio ricordando che ha un contratto che scade a giugno del 2023 ed affermando pertanto l'incedibilità del centravanti argentino. Grazie. 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 Grazie a tutti.